Quindi già vedete, già vedete questa ricetta, è una ricetta di ricetta italiana di tutti. Stiamo parlando di carbonara, quindi è semplice ma è molto difficile. Perché è difficile? Perché per seguire il metodo giusto per mixare tutti questi ingredienti è anche difficile. I italiani si fanno davvero freddo quando si vanno una carbonara falsa, freddo con crema, freddo con salsiccia e altre mixture e ingredienti. Ma oggi vedremo come sorprendere i vostri amici italiani e fare una buona carbonara. C'è una verità che molte persone non vedono, non c'è una ricetta reale carbonara. Solo perché questa è una ricetta tradizionale, una di queste ricette che sono molto modificate da ogni famiglia. Quindi ogni famiglia ha la sua proposta, ha la sua proposta. La ricetta tradizionale e l'origine di carbonara si è diventata dagli USA. Dopo la seconda guerra mondiale gli soldi americani e americani avevano molti baci e ucchi perché avevano freddo con loro. Quindi alcuni chef italiani li mixavano insieme con pecorino e pasta, o con cibo e pasta per realizzare la carbonara. Dopo l'anno, questa ricetta si è andata molto lunga. E oggi c'è una ricetta finale di carbonara che è quella che faremo oggi. Quindi gli ingredienti sono molto semplici. Prima di tutto, la principale star del show è il guanciale. Che è il guanciale? È la pelle del peggio. E è sezionato per almeno 10 mesi. C'è un po' di peper e salto all'interno. E l'organizzazione del guanciale anche ha la pelle. E qui c'è il label del mio salumiere, l'unico che mi ha venduto questa bella pelle di guanciale. Se non puoi trovare il guanciale, hai alcune alternative. Puoi usare la pancetta, ma sicuro di avere una buona, grande parte di pancetta. O puoi usare il bacon. Perché il bacon è la pancetta. Sicuro di non chiedere le pelle di bacon, ma di chiedere una grande parte di bacon. Solo per assicurarlo correttamente. Dopo questo abbiamo il pecorino. Se non puoi trovare il pecorino, questo è il pecorino romano, che negli Stati Uniti, ma anche nel mondo, potrebbe essere difficile da trovare. Quindi puoi usare il pecorino parmesano italiano. Siete sicuro di scegliere una buona qualità di parmesano. Preste alcuni ucchi, solo il guanciale. Ci sono persone che utilizzano l'uomo entro, ma non lo piace perché il flavor diventa troppo acqua. Quindi utilizzo solo gli ucchi. Puoi usare gli ucchi pasteurizzati o come preferisci. E alla fine bisogna solo il pecorino rosso e la pasta. Ora, sicuro di usare la pasta raffa. Quindi la pasta con una raffa raffa che rilassirà il pecorino. E ci permetterà di fare una salsa molto buona, crema, senza utilizzare alcun crema. Ora faccio solo una ricetta per me. Sono molto freddo, quindi utilizzerò 120 grammi di pasta. Ma nella descrizione, come sempre, lascerò tutte le proporzioni per 4 persone. Quindi puoi adattare la ricetta ai vostri necessari. Quindi abbiamo il nostro bello guanciale. Prima di tutto, tagliare solo l'esterno, le pellicule, perché sono troppo freddo e troppo seasonate. Vogliamo davvero controllare la salta delle ricette, perché se non controlliamo questo, la carbonara sarà troppo salta e si tratterebbe un po' di vino. e si tratta di parlare come gli italiani, quindi davvero fuori, sto giocando, ovviamente. Ora, tutti questi pellicule, non le faranno fuori, perché puoi usare, per esempio, per fare alcune ricette testi. Puoi usare, per esempio, un po' di soffritto, puoi usare in minestrone, puoi usare quando vuoi, per aumentare la raffa. Ora, alcune persone lasciano la parte con il pecorino. Mi piace non usare perché è troppo peperi, quindi voglio controllare tutto il raffa, non esagerare in raffa. Quindi, vedete, tutti questi pezzi di carne sono molto, molto tessi. Non esagerare mentre pulire il guanciale. Dopo questo, per me, sono solo una persona, quindi ho bisogno solo un po' di guanciale. Assoluto di tagliare un po' di centimetro di guanciale. Quindi, lascia il pecorino fare il lavoro e dopo questo, abbiamo questo fantastico pecorino di guanciale. Poi puoi vedere, questo è il fatto che renderemo in una pancia e questo è tutto il carne. È molto, molto flavorico. Ora, dobbiamo tagliare pecorino come questo. Vedete, molte persone usano pecorino di guanciale e quando mettere il guanciale nella pancia, si smettano completamente. Vogliamo cuocere il guanciale e smettere il guanciale quando smettiamo mentre ammettiamo la carbonara. Quindi, abbiamo solo bisogno di creare grandi pezzi. In Roma, molti miei amici romani fanno la carbonara così. Ora, è la volta del pecorino. Vedete, ho fatto il punto del pecorino, che è già prontato. Quando ammettiamo il pecorino, non usate questa grande parte, non usate questa. Non usate nemmeno queste piccole, usate questa parte del pecorino. Con questo, sbagliate di rendere il pecorino molto, molto finno e questo aiuterà a mixarlo molto bene con la salsa e con l'olio. Quindi, ora, lo rompiamo. Inoltre, non vuoi il pecorino essere troppo difficile, lo vogliamo un po' più soltanto. Come vedete, se prendo un piccolo pecorino, posso modificarlo con le mani. Parlando del pecorino, lo vedete, questo è come nello. Questo è molto, molto finno e lo smettere molto, molto facilmente. E questo è una delle difficoltà della carbonara. Dobbiamo separare il bianco dall'olio. Quindi, non devi essere molto, molto attenzialmente. Se un po' di bianco entra in la mix, è perfettamente ok. Anche, se lo rompono, non preoccupate, perché devi mixarlo con il pecorino. Per ora, non lo smettere, puoi fare un po' di merengue, puoi fare un po' di assai, puoi fare un po' di quale vuoi. Abbiamo l'olio di olio, aggiungiamo quasi la半a del pecorino e lo mixiamo con un po' di forza. Non sbagliare perché questa pasta sarà molto, molto densa. Perché lo necessitiamo molto densa perché dopo lo mixeremo con qualche struttura. In questo mix aggiungeremo anche un po' di pepe nero. Il pepe nero non deve essere troppo finno. Mi piace la mia carbonara di essere molto peppera. Quindi, ora abbiamo il pecorino, abbiamo il guanciale, abbiamo la pasta. andiamo a cuocere. Ricordate che la carbonara è una ricetta rapida. Gli italiani avevano fatto quando non avevano il tempo. Tutte le preparazioni devono prendere quasi 10 minuti il tempo di cuocere la pasta. Ora, per il video ho mostrato tutto il passaggio, tutto il tagliato, tutto il pecorino, ma puoi fare questo in un po' di tempo. Ora abbiamo la nostra acqua, quasi acqua, aggiungiamo un po' di salto, quasi un po' di 10 grammi per litro. Possiamo usare 3-4 grammi per litro di acqua, quindi non abbiamo bisogno di aggiungere troppo salto. Come questo sarà sufficiente per la mia portion. Nel momento ci siamo aspettati la nostra acqua di cuocere vogliamo tosse il guanciale o il bacon se usate il bacon. Come vedete non usate un fuoco molto alto. Vogliamo che il guanciale rilassi la fatta molto lentamente perché vogliamo preservare la fatta perché bisogna usare l'opera e vi mostrerò come. Ora mettiamo il guanciale nella nostra pancia. Non usate nessun altro fatta. Non abbiamo crema, non abbiamo l'olio non abbiamo niente altro perché abbiamo il guanciale che vedete che questo smelterà e rilassare molta griglia. Vedete come cambia di coloro? Vogliamo solo questo. Vogliamo essere quasi trasparente e non più bianco. Queste sono 10 minuti la pasta quindi cuoceremo per 6 minuti nella acqua e dopo trasferirlo nella pancia e vogliamo finire il cuocere qui. Poi non bruciate il spaghetti. Quindi vedete questo è quasi il punto perfetto e non bruciare tutta la griglia perché lo metteremo nei occhi proprio come questo non sarà troppo perché è solo una portion ma vedete mettere un po' di griglia nei miei occhi proprio perché come ciò lo cuocerrò metterò ricordate la griglia sarà molto molto hot essere pronti to whisky very very fast just not to cook it but to begin to incorporate some kind of fat and this will help to realize our cream a little bit better now that it is cooked we will put it in a towel to let it rest a little bit and to remove the excess of fat don't all the fat but just the excess oil but you can see in the pan there is a bit of grease a bit of residue that we need to reuse to finish to cook our pasta these are a five minutes pasta cooking you can you can hear the sound that it makes everyone just to deglaze the pan to don't waste any flavor just like this two three spoon of boiling water for the recipe you can use both long pasta or short pasta just be sure it has to be rough in the surface as you can see here it will release some starch now the pasta is cooked so we will shut off our flame let it rest a little bit and we begin to add our guanciale just half of it it is enough and we will use the rest for to to finish the preparation mix it very well yeah you can hear it you can hear it the pasta it will become very very flavor and at the end we will just add our egg and pecorino mix all inside the pan you can see it is very dense but it is not a problem just don't waste any egg and pecorino sauce and now the game is that you whisk everything you see everything is doing its job and the carbonara like magic is ready if it is too dry just add a pinch of boiling water just a pinch to make the sauce more creamy yeah yes this is the sound of love the true sound of love now remember we don't want to be really very precise this is not a michelin star dish this is a dish that you want to really taste with your friends when you are hungry when you want to eat a bit fattier also don't waste any of the juice you can see here look how beautiful this is just finish the dish with all the sauce a bit more of guanciale just in the top with a good amount of pecorino at the end and this is our beautiful carbonara look at how beautiful this is just at your taste you don't need to exaggerate now let's taste it this is our carbonara as you've seen it's not so much difficult it's important to make the right passages i will finish with a bit a little bit of pepper just to end look at how beautiful this is my mouth is completely watering so now let's test you can see how the sauce is creamier without using any cream or anything else a good chunk of guanciale a good amount of spaghetti you can see the sauce how it's mixing well with the spaghetti just taste it this is this is perfect guys i would like you to taste this carbonara and this beauty just look at how beautiful this is hmm this is mind-blowing remembering there are not very precise quantity of single ingredients the most important things is to respect the method to mix all of them only following the right method you will have a perfect carbonara and remember that the perfect carbonara is perfect because it is very imperfect so for this video is everything i hope you understood how to make a perfect carbonara waiting to read all your comments and feedback i will finish now my carbonara because i'm really watering bye bye